Ciao a tutti ragazzi, qui è Poreganza ZWaltrow che vi parla e volevo darvi una notizietta per chi era interessato alla mia guida del professor Layton credo anche ben pochi troverete sul mio blog perché ero rimasto fermo alla parte numero 14 troverete nel mio blog le parti mancanti, ovvero dalla 15 alla 20 qui sotto nella descrizione ci sono tutti i link delle parti che vorrete vedere, se vorrete vederle ovviamente il link vi porterà direttamente alla parte mancante quindi voi basta che guardate il video, premete play lo guardate in wide perché a schermo intero si vede molto meglio e quindi potrete vedere le parti mancanti per quanto riguarda Super Smash Bros. Brawl invece la ricomincerò dalla settimana prossima, causa problemi scolastici bene ragazzi, arrivederci per un nuovo video, ciao ciao